Dati statistici ufficiali, credibili e affidabili sono fondamentali per far bene il lavoro del giornalista, anche perché non dimentichiamoci che viviamo in un'era di sovrabbondanza, di eccesso di informazioni raramente verificate e verificabili. Viviamo in un'epoca di sondagite acuta, quindi di pseudo informazioni che vengono anche spesso confuse con dati ufficiali, quando sappiamo che i sondaggi in realtà rilevano più gli umori dell'opinione pubblica. Viviamo quindi in un'epoca dove ci sono più opinioni che informazioni certe. Ecco allora che il dato statistico ufficiale diventa estremamente importante per noi giornalisti per raccontare società sempre più complesse, realtà sempre più complicate e anche sempre più manipolate e manipolabili, perché questo è l'altro elemento estremamente inquietante, se volete del nostro mestiere. Io per esempio nella mia trasmissione 8 e mezzo ho a che fare quasi tutte le sere con politici che fanno largo utilizzo di cifre, dati, numeri. Ecco per riuscire a fare bene il mio lavoro, devo essere in grado di contrapporre ai loro dati, dati che vengono venduti come verità, dei dati ufficiali verificati e credibili. Per questo che i dati dell'Istat sono per me e come per molti altri giornalisti assolutamente fondamentali.